La matrice Granato, la invito a mettersi la mascherina. Lei deve rispettare le regole come tutti gli altri. Anzitutto le deve conoscere. Nel momento in cui le conosce, le deve rispettare. Quindi o si mette la mascherina o lei deve allontanarsi dall'aula. E vorrei far presente a lei, Presidente, anche ai senatori questori, che il Ministro Brunetta ieri è venuto in audizione, in commissione, dove esiste pure questo obbligo e ha parlato per tutto il tempo senza mascherina. Quindi, siccome in questo consesso noi dovremmo parlare liberamente, così come lui ha parlato ieri, io lo ritengo di dover rispettare un obbligo. In questa Assemblea le regole le ho detto io. Si allontani, se non intende farlo si allontani. Le dispongo di allontanarsi. O mette la mascherina o se ne va. Prego, senatrice, non faccia sì che la faccia allontanare. Sì, volevo finire questa cosa. Se vuole, se vuole, la forniamo di una mascherina se non ce l'ha. Ce l'ha. Allora se la metta o esca. Senza tante storie. Avanti. Non faccia perdere tempo all'Assemblea. Dobbiamo lavorare. Prego. Senatrice Granato, lei non è la prima volta che ci mette di fronte a delle sanzioni che non sono così gradevoli perché lei dovrebbe rappresentare le istituzioni come tutti noi. Questa è la sede della legalità. Quindi, per cortesia, non mi costriga a farla allontanare che sarebbe una brutta rappresentazione di quest'Aula. Prego, esca. Grazie. 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 Grazie.